Una nuova ambulanza è ciò di cui potranno servirsi gli abitanti del comune di Sansa che proprio nei giorni scorsi hanno visto arrivare il nuovo mezzo in sostituzione di quello usurato e attivo già da diversi anni. La cittadina è sede di un presidio South per il trasferimento delle emergenze nei nosocomi del territorio gestito dalla misericordia di Ascea, ma i cittadini spesso si lamentavano dello stato consumato dell'ambulanza che effettuava il servizio. Di qui l'iniziativa condotta attraverso il sostegno della popolazione e il contributo del comune che ha portato la misericordia di Ascea all'acquisto e alla messa in opera della nuova ambulanza. L'amministrazione comunale continua quindi il suo impegno verso l'assistenza rivolta ai cittadini. Con un grosso sacrificio perché sappiamo i tempi che corrono, ha un piccolo contributo all'associazione per l'acquisto di questa ambulanza. Proprio per far sì che l'assistenza sul territorio venga sempre migliorata. Si tratta sempre di un'ambulanza di tipo A, di quelle adibite al trasporto degli infermi e al servizio di pronto soccorso e dotate di specifiche attrezzature di assistenza, solo che è un tipo più moderno essendo stata appena acquistata. Più che contenti del sostegno ricevuto, i rappresentanti della misericordia che assicurano il servizio di assistenza ai sanzesi. Noi siamo qui presenti sul territorio da circa otto anni e collaboriamo con l'amministrazione. In questi anni abbiamo migliorato tutto, sia il servizio e sia la postazione. Nonché proprio l'anno scorso il comune ha fatto un altro ulteriore sacrificio, mettendoci a disposizione e facendo dei lavori nella struttura qui presente. Il comune di Sanza, come ha fatto sapere l'assessore alle politiche sociali e sanitarie Vincenza Donofrio, oltre a mettere a disposizione i locali sotto il municipio per il South, è andato incontro all'acquisto della nuova ambulanza decidendo di non riscuotere l'affitto per i locali occupati.